in mezzo wow ehi cosa fatemi da parte chiunque pensa di poterci fregare abbiamo uno schiato in giro levatemi di mezzo non se ne andranno vivi credimi Kilos via dalla strada chi va là fatevi da parte hai bevuto troppo? fatevi da parte secondo te cosa spinge a questi idioti? muoversi, su ti copro io non ci toccheranno nemmeno Kilos fatevi da parte fatevi da parte troveremo quell'idiota e lo finiremo wow se vengono allo scoperto sono morti muoversi, su go 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 go